I recenti atti incendiari che hanno colpito le auto comunali è quella dell'ex consigliere Demma Alessandracia, ma non solo. C'è anche l'attenzione della Commissione Antimafia sugli affari legati ai rifiuti o l'audizione secretata del sindaco proprio davanti ai componenti della stessa Commissione regionale. Tutti pezzi di un unico puzzle che, secondo il Partito Democratico Locale, va ricostruito e attenzionato per evitare di far tornare indietro di 30 anni la città. Oggi in conferenza stampa lo hanno ribadito sia il segretario cittadino Guido Siracusa che il parlamentare regionale Giuseppe Rancio. Il rischio, secondo i Demma, è quello di banalizzare gli eventi e di lasciare campo libero alle infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto economico, sociale e politico. E allora è giusto che ci sia un'attenzione dovuta delle istituzioni e per questo motivo noi come Partito Democratico abbiamo chiesto ai gruppi parlamentari della Camera e del Senato di compulsare il governo per aumentare la presenza dell'organico delle forze di polizia. Qualche mese fa le dichiarazioni del Sindaco a una manifestazione dell'antiracket riguardo alle infiltrazioni presunte all'interno del tessuto sociale della città, le infiltrazioni mafiose. L'audizione in Commissione Antimafia che viene secretata, anche questi sono segnali che voi giudicate inquietanti? Preoccupanti, inquietanti, preoccupanti, allarmanti, non so che cosa dire più. Perché quando il primo cittadino dice cose del genere avrà tutti gli elementi per poterlo supportare. E quando il suo intervento viene secretato in Commissione Antimafia diventa ancora più preoccupante. Noi non vogliamo assolutamente sottovalutare le sue parole, anzi vogliamo prestare la giusta e dovuta attenzione. E diciamo che chiaramente ci vogliamo mettere come sempre Stato dalla parte di chi difende i diritti e di chi difende soprattutto la libertà. Perché quando determinati fenomeni prendono il sopravvento è come se si mettesse in discussione la libertà degli individui. I democratici che hanno lanciato la proposta di un fronte comune sugli investimenti temono che la recrudescenza criminale possa essere un prologo per mettere le mani su appalti e lavori. Ecco perché chiedono interventi concreti sul territorio, a cominciare dalle campagne ad esempio che nei prossimi mesi rischiano di essere di nuovo preda degli incendiari. Ho lanciato un grido d'allarme dal punto di vista della praticità. Tra il prossimo mese si incomincia la tempiatura del grano, non vorrei che come l'anno passato arriviamo all'ultimo momento e ce ne occupiamo e corriamo da un campo all'altro per spegnerlo. Bisogna prevenire e quindi mettere in atto tutti quegli interventi che sono necessari per garantire la sicurezza del raccorto. Questo è uno dei fatti. Il PD la prossima settimana intanto incontrerà i presidenti e i suoi gruppi alla Camera e al Senato per chiedere di sensibilizzare il Governo nazionale affinché invii sul territorio un numero maggiore di investigatori. Vorremmo che qui fossero presenze delle forze non visibili, quelle che non si vedono e che fanno le indagini. Perché questi fenomeni che si stanno verificando con una frequenza maggiore e con uno spretto più ampio ci preoccupano. Poi come dicevamo, secretato quello che è stato detto il sindaco alla Commissione Antimafia, anche questo è qualcosa che ci preoccupa. Non vorremmo sottovalutare tanti elementi che corrono e si vedono. Quindi la nostra conferenza stampa di questa mattina ha il significato non di suonare le campane per dare un allarme, ma per prendere le giuste precauzioni e trattare con la giusta attenzione questi problemi che non vorremmo che ci fosse un'escalation come 20-25 anni fa. Grazie. 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 Grazie.